Claudia Sardegna Revisore Buongiorno a tutti, visto che Claudio ha scherzato, Matteo era prima, non sono parte correlata, né in positivo, né negativo, sganciatemi, lo dico perché è un cognome tranquillo, poi chiaramente c'è chi mi chiede gli 80 euro e gli 500... Allora, sono però un padre di famiglia con due figlie splendide e una moglie insegnante. I temi che tratteremo hanno una forte importanza per il futuro dei nostri figli e per la società. Non li tratterò dal punto di vista politico, ma li tratterò basando su dei fatti e senza connotazioni ideologiche. Volevo darvi delle informazioni al fine di discuterne e di aprire una riflessione. Sono riflessioni personali che sto facendo da tempo attorno a questo tema che volevo condividere. Bene, computer e cervello. Come andrà a finire? Ecco, facciamo per capire in base a dei dati oggettivi una brevissima storia dell'informatica. Ho dieci minuti, quindi dall'abaco non partiamo, partiamo un po' più velocemente. Siamo arrivati oggi a dei sistemi detti learning system che fanno apprendimento automatico dalle informazioni che prendono da vari strumenti. Siamo arrivati? No, non siamo arrivati. Se prendete il cervello di ciascuno di voi in questa stanza, il vostro cervello ha 20 petaflop di potenza. Adesso, cosa siano i petaflop? È un tema anche questo lungo da spiegare. Vi dico solo che il più grande supercomputer oggi in Italia, sta a Bologna, al Cineca, è da 2.4 petaflop. Il prossimo, lo stiamo facendo in Eni, 4 petaflop. Il vostro cervello ha 5 volte più potenza di calcolo di un qualsiasi del più grande supercomputer italiano e consuma 20 watt, che è molto poco. Quindi quando uscite con lo strudel non serve tutto questo zucchero per alimentare il cervello. Ok, bene. Cosa fa? Quindi basta poco. Cosa fa un cervello umano? Un cervello umano fa tre cose. Calcola, elabora dati e questo prende decisioni. Poi apprende dalle esperienze con i sensi, sensoriale, e parla linguaggio naturale. Quindi comunica con un linguaggio per l'appunto naturale. Stanno avvenendo alcune cose nell'ambito dell'intelligenza artificiale. La prima cosa che sta avvenendo è che le macchine riconoscono sempre meglio le cose. Una cosa che riconoscono sempre meglio è le facce. C'era un error rate alcuni anni fa del 30%, si sbagliava il 30% delle volte. Oggi la macchina sbaglia il 5-6% delle volte la faccia che ha di fronte. Le applicazioni sono infinite, con la Carnegie Mellon University stiamo facendo applicazioni per un non vedente con la camera e dice sta arrivando Filippo ed è contento. Pensate poi alla sicurezza, vedete in Israele abbiamo numerose applicazioni in giro per il mondo in italia di riconoscimento delle facce. A proposito, la macchina riconosce che è contento perché la macchina sa riconoscere le emozioni. Noi per capire le emozioni di chi abbiamo di fronte mandiamo le emoticon. Va beh, rifletteremo. Secondo tema, le macchine hanno sempre più dati per allenarsi. C'è un bel film che si chiama Herr, qualcuno di voi l'avrà visto. Lui si innamora di lei, lei è un computer, ha la voce di Scarlett Johansson, una voce così suadente che lei vince il premio Oscar senza nemmeno averla mai vista nel film. E lui domanda a lei, ma cosa pensi? E lei dice, ah penso a te. E vai, questo è tutto congolante. Cos'altro? Cos'altro? Ecco, sto leggendo 8000 libri e sto parlando con altre 150 persone. Ecco, come calcolo l'uomo è molto meglio della macchina, come memoria non c'è verso. Io non mi ricordo neanche il cellulare. Di mia moglie sì, ma di mia figlia non mi ricordo il cellulare più a memoria. La memoria dell'uomo non c'è parola in quella delle macchine. La potenza di calcolo sta aumentando a dismisura. Quello che batteva il campione del mondo di scacchi alcuni anni fa, si chiamava Deep Blue, pesava una tonnellata e quattro. Oggi quel telefonino che avete in tasca, un decimo del vostro telefonino, è più potente di quella macchina lì. Tutta la potenza di calcolo che ha portato l'uomo sulla luna nel 69 oggi è contenuta in una frazione microscopica della potenza di calcolo del vostro smartphone più o meno smart. Sull'intelligenza artificiale stanno venendo oggi una serie di investimenti massicci. Un sacco di soldi saranno da finire in quest'ambito, per variate ragioni. Ecco, questa è la teoria. In pratica se volete provare a casa, c'è Glu Glu, andate dentro. Personality Insight, scrivete Personality Insight, c'è un'applicazione, potete metterci dentro la... Questa l'abbiamo fatta noi in IBM, ma ne trovate varie. Potete metterci dentro i dati di testo di una pagina scritta da Gandhi, io ci ho messo una pagina scritta da Gandhi, una pagina scritta da Hitler, una pagina scritta al mio capo, e lui fa l'analisi psicologica della controparta. Il mio capo era più vicino a Gandhi, che è Hitler certi giorni, altri giorni. Ok, un'altra cosa che sta avvenendo in rete, che sta avvenendo in rete è voi andate e navigate felici, perfetto, bene. Quando avete notato che di fianco succedono delle cose strane, di fianco alla vostra navigazione, stesso identico orario, io e un mio amico, lui stava ristrutturando un trullo in Puglia, quello in alto, e io stavo cercando una nuova macchina in leasing, da quale stavo scegliendo la macchina. Guarda caso, il sito web a lui suggeriva attorno all'informazione che era cercata, quella di Tsipras in quel momento, informazioni immobiliari, a me suggeriva oggetti sulle macchine. Cosa avviene dietro le quinte? Si chiama, e se non entro nella tecnologia, si chiama cognitive tagging, fisicamente ci piace o non ci piace, oggi stanno avvenendo dentro, quando navigate, tutta una serie di fenomeni di tagging, perché la macchina sta cominciando a capire il significato di quello che cercate, il significato delle parole. Se parliamo linguaggio naturale, cominciamo a entrare in questo mondo. Sta avvenendo in questo momento, in questi momenti, sta avvenendo un ulteriore passo. La macchina sta acquisendo senso e sensibilità. E questo è importante, la parola senso ha infiniti sensi. Allora, dal punto di vista anatomico, se prendiamo la Treccani, i cinque sensi, senso di tipo anatomico, oppure c'è un significato filosofico, il senso della vita, o un significato linguistico, il senso delle parole, bene, le macchine stanno cominciando ad acquisire sensi con i sensori, è sempre più pieno di sensori attorno a noi. Cosa avviene all'interno del sistema? Avviene che la macchina interpreta i dati per voi, dà un senso ai dati, tipo filosofico, non filosofico profondo, ma dà un senso ai dati e tutti i sensori per vostro conto. La macchina che invece dà un senso nel linguaggio linguistico ai dati è quello che abbiamo visto prima, content tagging e strumenti del tipo precedente. Lo facciamo, lo si può fare per delle vigne, lo si può fare per la medicina, lo si può fare per la gestione del traffico, quindi su questa macchina stanno acquisendo sensibilità. E allora che resta dall'uomo? Cosa resta dall'uomo? L'uomo è ancora in vantaggio sulla macchina per una cosa importante, che è quella del senso comune. Il buon senso, come si chiamava una volta. Guardate la foto bassa alla vostra destra. È una foto nota in letteratura scientifica e si chiama Ann e la babysitter. Vedete, c'è una signora che tiene una babysitter. Allora, chiunque di voi mi direbbe che Ann è la bambina e la babysitter è quella signora grande, corretto? Qualcuno ha un'idea diversa? Questo perché il buon senso, ma non è scritto la logica, la logica di una macchina non mi porta a quello. La persona piccola potrebbe essere una signora piccola che fa da babysitter una ragazzotta grossa di 15 anni. E chi ha detto che la babysitter deve essere di età superiore all'età della babysittata? Il buon senso, sì, ma la pratica, no. Altro esempio di uomo in vantaggio sulla macchina. La macchina va su motori statistici, su considerazioni statistiche, su media, gaussiana, normale. Se voi foste un contadino, c'è un classico esempio di Nicola Staleb, ha scritto un bel libro che si chiama Il Cigno Nero. Se voi foste un contadino e un maiale, il maiale avesse delle capacità statistiche. Bene, il maiale statistico ogni giorno riceve 3 kg di roba da un contadino. Quindi in media 3 kg, 3 kg e 100, 2,9 kg. In media il contadino è una brava persona. In pratica, a Natale, il contadino mi ammazza, corretto? Ok. Statisticamente, va bene, però. Ecco, il buonsenso non è una roba on-off, il buonsenso c'è o non c'è, quindi se il contadino è un disgraziato, è un disgraziato sempre, non statisticamente. Questo, sono fatto due esempi stupidi, però, per darvi un'idea del perché le macchine sono in vantaggio sull'uomo nel... L'uomo è in vantaggio sulle macchine nel buonsenso. Però, 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 questa è una pubblicità dell'IBM negli anni 50, vendendo quel computer, dicevamo, se t'accatti una di quelle macchinozze nere giù in basso, 150 extra engineers, un regolo calcolatore, non ti servono. Sappiamo poi quando è andata a finire, 150 extra engineers, l'azienda l'ha assunti lo stesso per metterle attorno alle macchinozze nere. Però, nei secoli scorsi, è successo che l'uomo è passato dall'umanesimo alle competenze, alla rivoluzione industriale, quindi andava a fare, imparava a fare un lavoro, una competenza, e poi, negli anni 1940-1950, dalla seconda guerra mondiale, ancora più lavoro capacità, quindi molto più specifico, quindi giro il regolo, faccio la cosa. Le macchine hanno cominciato a loro volta facendo cose assolutamente insensate sin dall'inizio, paghe stipendi, quindi le macchine sono partite dalla capacità. Poi, però, le macchine sono risalite, hanno fatto dei software che vanno a fare delle competenze, quindi fanno gestione dell'IRP, gestione del magazzino. Oggi le macchine stanno acquisendo senso. Cosa sta avvenendo al contempo all'uomo? Eh, all'uomo, in teoria è in vantaggio sulle macchine, nel buon senso, come abbiamo detto prima. Certo, però, in teoria, fra la teoria e la pratica non c'è differenza, in pratica c'è. Dicevo un filosofo, in teoria, fra la teoria e la pratica non c'è differenza, in pratica c'è. In pratica, stiamo perdendo noi umani, molto spesso, il buon senso, qualche volta scimmiottando le macchine. che è una provocazione, ragazzi, ma è un problema che vedo, se il nostro punto di forza è del buon senso, se noi ci mettiamo a scimmiottare delle macchine che il buon senso non ce l'hanno, vedo un problema. Quindi, che cosa dobbiamo fare, quindi? Dobbiamo fare una cosa molto semplice, avere il coraggio di usare, però se una macchina non ha coraggio perché non ha coscienza, quindi il problema del coraggio una macchina non se lo pone, avere il coraggio di usare e fare cose di buon senso. Non è così difficile, siamo disegnati per quello, basta che il cervello vada dove lo porta il cuore. Grazie per l'attenzione. Applausi